Ehi la ciurma, io sono la mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Roam Allora, dopo aver provato a parlare e ragionare con il tizio abbiamo scoperto che nulla O pianificavo contro di lui oppure... niente Allora, dobbiamo parlare con Sineros della corrispondenza segreta Perché abbiamo scoperto della corrispondenza segreta, però dobbiamo tornare fino all'accampamento Che quindi è... là, credo, perché... E cosa dobbiamo dire ragione, quindi dobbiamo tornare fin laggiù Stiamo... scusa Sì, vai qua? Mi fa andare qua a Calloni, ma a Mitilene no Vabbè? Enter, ok Cioè, per parlare con lui abbiamo dovuto attraversare il mare... Boh, non lo so, ecco Spero di aver fatto giusto Allora, eccoci, vediamo un po' se triggerà qualcosa... no Ah, sì, eccolo, Sineros... no, io adoro Che è Pigress? Non me lo ricordo a Pigress chi è Ah, Pigress è quello che si picchiato con Sineros, ok Non c'è nulla da perdonare, penso che questo problema avrà risolto e Pigress è stato vincitore su Sineros Ok, è contento Ah, però non era eco, vuole sfidarlo lui Tu cosa ne pensi? Sineros? Sineros ha già un braccio rotto Ah, è un' ricordazione del mio passato Un'acchia che non posso riusci Ho un'idea per come possiamo risolvere questo conflitto senza morto Non lo so, farei la quattro, mi sembra un po' più standard Non lascerò che lui muoia per questa discussione E se sfidassimo con le nostre menti? E un'acchia che si tratta di un'acchia che si tratta di un amico E un'acchia che si tratta di un amico Siamo due troppo vecchi per questo tipo di spettacolo Giusto? Quindi cosa propone, Mann Crusher? Riddle Un'altra domanda sarà tre domande all'altra E lui che le risponde corretamente sarà il vincitore Mi sembra un po' strano ma a me va bene Since I'm the one challenging, I should ask the questions It's only fair Ok I'm ready for your questions, Diororos Make them difficult So you will be convinced of my victory in the end Consider this thing The more you have of it, the less you see Secondo me è l'oscurità, per cui direi non è la luce You can't see the light itself, can you? You can't see the sun But that can't be it But the answer can be the opposite Darkness Correct Your second question follows Vabbè Ho capito? Lo stavo suggerendo noi Ham I'm the wp-6 I'm the 골� of trie I'm the power 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 non è nessuno di queste per il vento che se ne so che faccia la cosa più leggera un buco ma il buco lo vedi cioè non vedi il buco in sé però qui com'è che lo suggeriamo non so direi non è il vento ma lo puoi vedere il buco vabbè non si vabbè tagliandolo ma lo ha tagliato è andata così storicamente beh qua possiamo usare il talento per cui il dio di talento ok ok vale non l'ha fatto di di odoro almeno di aggiungere myself la mia mente sta a gare vale ok non sono stato molto soddisfatto da quello che è successo Ah, Sineros, sta male, perché è mezzo morto. Eh, bello proprio che cammini tutto storto, ma devo parlare con Sineros, proprio con lui. Eh, ok. E qui scoperto. Ottimo. Possiamo... ...ingernare Theophilum. È sicuramente valuta l'attempo. Nel senario peggiorno, lo vedrà tra le ruse e rimane. Ma se lo prende il cuore e venne solo, potremmo appreenderelo allora. Soprattutto la situazione con nessun sangue. Eh, sì, non sarebbe male di non assassinarlo. Sì, non sarebbe male di non assassinarlo. Beh, fai il falso. Ok. No, qua possiamo mettere... No, aspetta, dov'è che dobbiamo mettere i tizi? Sì. No, no healer. E quindi, dove... Dove lo curo? Ah, abbiamo i soliti livelli. Ehm... Da dove arriva? Uh. Fico. Però non ha il crippling shot, ma... Ehm... Barbed arrow. Che dà bleeding ai nemici. Hm. Non è male. Vai così. Hai bisogno che darle questo? Sì, ok, è tutta rotta. No, ok, si è fissata. Ehm... Buono. Però... Abbiamo poi... di robe nuove. Ma quello di cui sono curioso è... Lui come... Ehm... Come lo curo? Ah, questo è alle baracchie, ok. Ma... Sineros come lo... Come lo puro se non ho un healer? Cioè, lui è l'healer. Eh... Questo è per... Ranius Rebulvur... Ha... 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 Ha heal di qualche tipo? Ha... Ha heal di qualche tipo? Ha... Ha heal di ranius. Hmmmm. Hmmmm... No, mi sa di non statse. si può curare lui aspetta se lo togliessi da qua no ok e posso magari dare gli first stage scusate sto cercando di imparare anch'io no sono robe che o ha o non ha non è dato da questo è proprio dato dalle sue abilità 108 ore alla faccia e non è easy no però è perfetto che ce l'avevo a sto punto perché sennò poi avrei potuto fare ok upgrade non possiamo fare upgrade ancora di nessun tipo e possiamo però far livellare la gente eccetera eccetera ma andiamo dobbiamo andare via a questo punto perché abbiamo parla con zenobia va bene parliamo con zenobia della nostra strategia attuale quindi dobbiamo ritornare in là abbiamo dovuto fare un viaggio incredibile della miseria solo per parlare con sinero sembra un po' esagerato no attenta e talvolta nei videogiochi non è che ci sono delle cose molto che seguono un criterio di logicità allora si abbiamo dei punti non spesi ma non rispenderemo adesso ehi 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 sto picco di rogate ok non è chiaro perchè non posso andare a mitilene però perchè non c'è la mia legione so mica ok uno con delle pergamene che sta portando all'accademia ha bisogno di aiuto mandiamo un pretoriano possiamo andare su lui ma ha finito di curare mi sa che dobbiamo assumerne altri ah ci ha dato uno schema ok ma 4 triage eh no non ha più adesso però cos'è ma he's being treated non è vero non è assolutamente vero e se non sono passate le ore necessarie per vai 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 e non prenderei lui che ha messo male se che dobbiamo temporeggiare un po' però più temporeggiamo più risorse spendiamo non mi piace qualcosa avrei dovuto prendere più pretoriani assolutamente uno da tenere le baracche e un paio da tenere con me non pensavo fossero così fondamentali non mi piace come inizia dal punto di vista del del gameplay dei pretoriani o comunque della gestione del party expedition's room gli altri erano più sensati più chiari andiamo a parlare con zenobia se adesso non ci tira ste laggate incredibili oh oh eccola e dai eh ho passato anche la grafica tutto non è che puoi fare degli scatti così senza senso allora ho forgiato una lettera puoi fargliela ricevere ottima no verrà catturato oh no non ho ancora deciso ok ok dobbiamo andare al fake secret meeting ma non ci andrei adesso però però abbiamo un legionario che manca e l'altro che è malato e più abbiamo dei punti skill non spesi e sono passati 19 minuti per cui anche se non abbiamo fatto praticamente niente in questo video mi interromperei qua però non vorrei farlo durare 70.000 ore era partita bene sta serie ma dopo che finita la parte sull'isola di rodi è abbastanza stagnante mi spiace detto questo io vi saluto vi invito a lasciare un mi piace come vedete questo video iscrivetevi se per caso non è stato già fatto ci vediamo nel prossimo episodio ciao a tutti e buona giornata iscrivetevi al canale